Ma poi hanno visto qua dietro di me che il Signore Gesù dice di essere la via, la verità e la vita qui davanti alla lista dell'11 gennaio. Voi siete il secondo gruppo, sono rimaste poche persone grazie a Dio. Questo secondo gruppo ha sentito la predicazione della parola. Noi ringraziamo per queste persone, è stato letto dalla prima epistola di San Pietro al capitolo 4, che siamo appena appena salvati di non impicciarci negli affari degli altri. Se noi vogliamo soffrire, non soffriamo come omicidi, come ladri, come malfattori. Non abbiamo fatto niente di speciale, ma soffriamo come imprigionati per la parola di Dio. E se il giusto è appena salvato, cosa sarà di quelli che non credono? Noi siamo appena salvati. Allora raccomandiamo le nostre anime al Signore, al fedele Creatore di ogni cosa. Vedete Creatore con la C maiuscola? Lì non sbagli. Noi sappiamo che la scrittura ci indica che il Creatore è il Signore Gesù. E grazie a Dio. Vediamo adesso se c'è qualcuno tra di voi ha qualche domanda da fare.